Allora? Ma guarda, non te lo consiglio. Ormai siamo a fine serata, i giochi sono fatti. Puoi spiegarmi? Scusate, io non me ne intendo molto. Guarda qui. Dea Flavor? Ma che gusto è? No, il gusto è Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain. Il marchio è Dea Flavor. Divina, porco zio. Tu fumi. Sto cercando di 2.000 euro. E quanto ti pesa? Dico passare da 20 a 18 sigarette in un giorno, quanto ti pesa? Abbastanza. Abbastanza. Io direi molto per ottenere poco. Ora, puntando 200 euro sui cream pie, che sono dati a 30, tu credi di ribaltare il senso della tua lotta quotidiana contro il fumo, ma sei ben consapevole di sbagliare. Buona vero? Ora, con quella il tuo alito sarà sempre profumato, i denti bianchissimi, non avrai più bruciore di stomaco e l'uccello ti direrà che è una bellezza. E se mai ti dovesse capitare, oh, ma io te lo auguro, di avere un cancro, potrai sempre dare la colpa all'inquinamento, oppure a chi fuma 20 sigarette al giorno, ma non potrai mai dare la colpa a te stesso. Ed i cream pie sono come una sigaretta al mentolo, che ti dà quell'insulsa sensazione di freschezza solo per farti più male. Sono una tentazione, sono lì per istigarti, per ingolosirti, però mi discapito e ti voglio dire un segreto, non vinceranno mai. Ah sì? Puoi vincere facile, e allora devi puntare su questa. I Never Ride o i Breaking Lars and Theory, quelli sì che sono giocate affidabili, certificate come il liquido contenuto in questa figata di svapo. Ora, le quote sono basse, perché tutti conoscono il loro valore, però secondo me, su di loro, potresti puntare anche di più di 200 euro.